L'associazione Imago di Arezzo ha donato alla Biblioteca Comunale i cataloghi delle manifestazioni che ha organizzato negli ultimi dieci anni. Come è nata l'idea e qual è anche il contenuto e il significato di questa donazione? Diciamo che l'idea è nata essenzialmente con la nostra volontà, intanto quella che è la nostra mission, di promuovere comunque la cultura fotografica, soprattutto la fotografia come mezzo di comunicazione artistica ed espressiva. Abbiamo deciso di guardare essenzialmente quelle che sono le principali realtà dal punto di vista culturale della provincia di Arezzo e la biblioteca ovviamente della città di Arezzo non poteva mancare da questa iniziativa. Io sfido a trovare un giovane che non abbia mai passato almeno una giornata a studiare tra i libri della biblioteca, quindi consentire comunque ai giovani, come anche a tutta la cittadinanza, di poter attingere anche ad un patrimonio non prettamente bibliografico, ma addirittura fotografico per noi ovviamente è un motivo di orgoglio. Quali sono gli elementi che caratterizzano le opere che sono contenute all'interno di queste pubblicazioni? L'elemento che contraddistingue tutte le edizioni di Arezzo e Fotografia è dato dal aver unito i vari livelli della fotografia, da quella foto amatoriale al grande autore internazionale, uniti e raccolti in un'unica grande manifestazione che nel corso degli anni ha saputo crescere di livello e qualità fino all'ultima edizione del 2016 che ha avuto un importante riscontro. Dal nostro punto di vista come biblioteca la collaborazione anche con questa associazione è quasi obbligatoria sotto molti aspetti, proprio perché la biblioteca come istituzione ha il compito di ravvivare la vita della società e si avvale di collaborazione come questa di cui riceviamo la donazione e siamo molto onorati perché arricchirà il nostro patrimonio librario.